buongiorno a tutti ragazzi sono dami ed eccoci qui con un nuovo episodio su minecraft oggi vi volevo far vedere la xp farm come ho fatto un po' le cose ho migliorato un po' di cose, ho fatto l'entrata un po' più bella come vedete pieno di torce è rimasto un po' più carino perfetto, come vedete ho messo i vetri ho tolto un po' di pietra che magari ingombrava e ho fatto gli scalini così è molto... oh già dovevo mettere la terra così è molto più comodo allora, la pala e qui sono arrivato al livello 31 ora aspetto un attimo che arrivino intanto mi metto la terra lì sopra perfetto ok, intanto saranno già arrivati eccoli qua come vedete ho cambiato la texture questa qui non è proprio quella di default ma ci assomiglia infatti è in hd sarebbe quella di default si chiama redcraft ed è molto bella solo che scrivetemi nei commenti se vi piace perché a me piace anche un po' più l'altro che... non so... un po' più carina questo è sempre minecraft originale quindi è un po'... non so come spiegare allora, intanto qui arriveranno si, arrivano e io chiudo haha allora intanto volevo ringraziare the best... the best nel full beh... oddio per avermi fatto l'intro che è veramente molto bella e... poi ci stavo mettendo d'accordo per fare una serie insieme però dobbiamo ancora vedere perché io ho dei problemi di connessione e... e quindi non so se riusciamo allora, oggi volevo anche andare a esplorare delle caverne però non volevo più andarla sotto dove eravamo già andati quindi... allora, la spada ce l'ho e faccio ancora un piccone in pietra avevo visto una caverna quella lì vicino alla XP farm quindi... allora e stai fermo ok, allora ok, ci sono scusate prendo questo qui faccio un piccone e... spada ce l'ho tutto ok, boh, niente diamo pure mi prendo da mangiare vabbè, mi prendo ancora così perfetto poi, ora che sono arrivato al livello 30 mi volevo poi incantare qualcosa però prima mi devo trovare l'ossidiana e dei diamanti per fare il tavolo degli incantesimi e quindi devo darmi da fare un po' a cercare queste cose nelle grotte cominciamo subito avevo visto questa qui spero ci sia qualcosa ah ok un bel po' di carbone qui illuminiamo bene ecco qui cominciamo qui tanto sta per arrivare il creeper vero? eh sì ok no mi ha fatto sprecare un colpo mamma mia ok quindi preso ah già perfetto oddio sono in trappola facciamo una bella cosa provo a tappare lì sopra con della terra così non mi rompono più tanto le scatole faccio così no non ho tappato probabilmente niente ok quindi faccio così sì no ma ma porca miseria uno lì eh uno lì ok così copre perfetto quindi posso già prendere tutto questo carbone comunque non è male questa texture abbastanza bello non so se tengo questa o l'altra ditemi anche nei commenti quale vi piace di più uh ferro bene molto bene poi prossimamente mi farò anche tutti gli attrezzi in ferro dato che ho già mi sembra sui 30 pezzi in ferro di ferro quindi mi posso fare già qualcosa ok perfetto qui sotto c'è qualcosa no allora qui ci mettiamo una torcia illuminiamo bene ok possiamo andare giù qui c'è qualcuno là sotto sì ok aspetta 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 non avevo la spada mamma mia ciao qui c'è ferro mi devo fare le torce qui c'è altro carbone non mi piace là c'è altro ferro quindi oh cacchio prendiamolo da sopra non viene più odio andare nelle caverne allora intanto possiamo farci alcune torce ora blocco qui così posso prendere bene le cose che ci sono da questa parte intanto qui c'è polvere da spavare allora perfetto comincio a prendere ferro stando attento che non arrivi nessuno oh bene un bel po' di ferro non vedo l'ora di trovare diamanti redstone così così almeno con la redstone poi mi posso fare dei bei circuiti di qualcosa non so però allora qui io chiuderei anche così almeno non ci viene a rompere nessuno mettiamo tante torce qua sotto cosa c'è vediamo dopo per ora andiamo qua scheletro facciamo così che lì c'è il ferro quindi di qui però si sale proviamo a vedere cosa c'è qua su così se finisce la galleria ancora meglio illuminiamo tutto e non spawna più niente ok intanto mi volevo prendere sempre tutto il carbone in modo da farmi sempre una bella scorta eh mio quando finì eh dai però non tutta la puntata qua scusate scusate se magari queste puntate sono un po' noiose ma purtroppo nelle caverne ci devo andare magari l'unica cosa interessante è combattere contro i mostri però detto che io cerco di evitarli è finito molto bene ok quindi ne abbiamo già 55 nessuno che arriva ok ghiaia ne ho tantissima a casa però magari ne prendevo un po' giusto per vedere se mi dava la selce niente ok quindi anche qui è esplorato eccolo lì ok oddio sta arrivando gente io direi di con questa spedizione nelle caverne è tutto nella prossima puntata poi faremo un giro sempre in questa caverna oppure nelle prossime non so nelle prossime puntate intanto mi prendo ancora il carbone ok poi magari mi facevo una miniera fatta tutta da me con scale per arrivare fino ai livelli più bassi del mondo dove magari potevo trovare i diamanti così ok bene bene aspettate che mangio ok andiamo attenzione a non morire la c'è un ragno qui c'è un zombie basta che non prendi il creeper perché sono maledetti ciao spero che non mi salgano in caso stico laggiù c'è già lo scheletro no questa è proprietà privata ok quindi il video è tutto il video è finito ciao a tutti